Ciao a tutti, oggi siamo qui per vedere Luca che gioca a Rainbow. No vabbè, a parte ho registrato una clip dove un mio amico sta giocando a Rainbow. No, ce l'ho fatto giocare a Rainbow e niente, c'era anche Alessio e dopo vedrete le altre parti di video, addio. Quindi sarà molto divertente, perché lui non ha mai giocato a questo gioco. Ciao! Ah, perché qua si fa assalì? Ah, l'hai innescato! Eccoci. Vai, 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 vai! Devi disinnescare. Devi disinnescare. Che cosa devo fare? Vai nella bomba! Vabbè, quell'altra bomba. Ah, cavolo, allora me ne devo andare. Dove? Dove vado? No! Dove vado? I simboli, 35 metri. Vado qua, la B. Dove ho detto B? Vado, eh? Bravo, già! Eh, a voi! No, no, so... Sì, sì, c'è... Aspetta. Ma c'è la due e non la play? Mmm... Sì, quella due, tipo. No, allora se hai fatto con il controller, vedi? Sì. Ma niente, mi sa che sposa. Aspetta, no, no, aspetta, aspetta. Aspetta, 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 corri! Sto andando a piedi. Aspetta, ma stai su. Ma chi è che sta gioando? Ah, ma sta gioando con la nuova tua? Sì. Ma io sono sceso dall'aereo. C'era la bomba. Ma 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 c'era la bomba. Ah, senti, facciamo così. Io vado in una stanza di riunioni. Tu vieni vicino a me con una mazza. Mi hai detto dove stai. Ok. Non c'era la bomba. C'era la bomba. Facciamo così. Io sono Pulse. Tu vieni verso di me solo con una mazza da baseball o col filo spinato, perché leggo questo. Io sono... Bello. Da vicino, da lontano sono pistola. Possibilmente... Possibilmente metti pure le mani alzate. E... E niente. La mazza da baseball non esiste. Ah, non esiste la mazza da baseball. Un coltellino? Sì, il coltello sì. Che è sto coso? Porca miseria, che è sto coso? Che è sto coso? Ho visto qualcosa? Era il mio drone. Era il mio drone. Ah, era il tuo drone. Sì. Era il tuo drone? Quello? Sì. Ah, mi spiace. Eh, vabbè, ma te l'ho rotto adesso. Vabbè. Ah, con R1. Con R1 puoi vedere dove sto attraverso i bachiti cardiaci. No, no, ma noi mettiamoci d'accordo. Tu vieni qua vicino a me. Ok. Ma il coltello lo devo cacciare. Aspetta, aspetta. Io sto nella cabina dove si guida l'aereo. Ok, aspetta che ti scansi uno e vedo lo stesso. Esatto. Vieni verso di me. Perfetto. 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 Vieni verso di me. No, con il pompa no. No, il pompa è stato vicino. Allora, piano piano però vieni, eh. Piano piano. E ha messo un coltello al limite. Dai, dai, un coltellino. Eccoti. Oh, e dai, ma dai, ma ti avevo detto un coltello. Tu mi entri con sto coso. Eh, sconfitta totale. Eh, vabbè, però, Alessio, ma siamo messi d'accordo. Tu quel coltellino. Questa cosa del coltellino mi risveglia dei ricordi. Io con la M16, però, insomma. Vabbè, vabbè. Ma perché secondo me perde un po' quest'ambiente sull'aereo. C'è sta qualche altro. Tipo, no, so, un bosco. Eh, chi da domenico? Domenico. Eh, domenico è un bosco. No, un bosco non c'è, no. Un bosco non c'è. Un magazzino. Un ufficio? Ufficio figlio. Eh, l'ufficio, l'ufficio. Una casa. Sì. La casa sì, c'è la casa. Eh, la casa secondo me viene bene con la casa. Sì, la casa è carina. E sta giocando con la pittura. Eh, qua. O stanno su una strada? Eh, no, ma c'è sempre... Ci sta la strada? Solo strada? No, no. No? C'è sempre una struttura. Ah, ok. Quindi non c'è la strada, però ce l'abbiamo... una casa, insomma... Sì, c'è la villa. La casa grande. Ah, la villa. Eh, metti la villa, metti la villa. Che ci piace? C'ha tre piani. C'ha tre piani? Eh, se c'ha tre piani è a posto. Io mi piazzo sul piano due. Tu vieni piano piano lentamente verso di me. Sì, devo venire col scantello. Vengo da dietro. Vieni da dietro? Vieni da dietro? Eh. Ma dal garage? Se tu sei al piano due, io vengo dietro di te, mentre tu miri davanti e non... Eh, ma mi serve una piantina, come faccio? Se con coltello ti ti fa davanti, mi spari una pompata in testa. Eh, allora facciamo così. Facciamo che tu... Ma non gli puoi togliere le armi, che non mi fido di... Eh. Eh, infatti fai bene. No. Ah, non puoi? No, non è vero. Non puoi. Ma adesso ti sta spiegando cose... Come faccio? Dov'è? Come faccio? Che so, con l'AC4 in mano. Tipo in costume, potresti venire senza niente. No. No. No, posso avere Massimo la pistoletta in mano. No, lo sto facendo. Che cosa devo fare? No, è Alessio, se avvia la partita. Ah, Alessio, dovresti avviare la partita. Ok, 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 ok. Va bene, dai, stiamo qui. Alessio, solo il coltellino. Eh, Alessio, solo col... Ah, vogliamo far così, metto il coltellino pure io, perché so che comunque... Cioè, io ho una certa abilità, però... Se vogliamo far solo col 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 coltellino, io e te è a posto. Dimmi tu, Alessio, certo, è meno divertente, però... Finisce, finisce a botte, cioè... Come si... Eh, peccato che non si può fare, appunto. Ah, non si può fare? No. Ma non è vero, si può fare, si può fare. Io non ci ho capito niente qua. Per questo, io non sentivo Alessio, per questo ho detto sì, perché mi sembra che era con il coltello, cioè... Questi stavano a di a botte. Ah, dovete solo usare il coltello. Eh, ma col coltello sciotti, cioè un colpo e muore. Ah, col coltello sciotti? Sì, col coltello un colpo e muore. Ahia. Eccoci, eccoci, eccoci. Sta cominciando, eh? Mi consiglio di usare Caveira. Caveira? Eh. Caveira? Non c'è la fase bana perché non me ne tenevo, dì. Caveira, che ha... Caveira? Sì. Non c'è Caveira, c'è Camera matrimoniale, Cameretta rosa... Sala da pranzo. Sì, è l'operatore Caveira. Ah, è l'operatore? Allora, senti, facciamo così. Io, vabbè, non te lo dico dove vado. Qual è Caveira? Quale, quale, qual è? Questa? 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 Mi fattelo a dire Domenico, c'è scritto Caveira. Ma io voglio Cap Can. Bello Cap Can. Mi dico Cap Can. Cap Can. Scelgo casuale, vai. Vai, dai, scelgo casuale, dai. Quindi tu col coltellino e io con la M16, va bene? Non so, non lo so. No? Pure io coltellino? Eh. Oh, che è qua? Oh, ma c'è sta una legata qua. Chi è questa? Io posso sparare? Io posso sparare? Ma che cosa? Aspetta, mi sai che sei solo lui. Dai, ma mi dispiace troppo. Ma mi dispiace. Ma è finta. Ah, è finta? No, 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 mi sento... Ma tanto se lo spai in testa non vuole. Aspetta, aspetta, aspetta. Dopo ho un po' di coltellino. Oh, il carottato è. Oh, no, scusa. Scusa, volevo prendere il drone. Aspetta. Oh, no. Volevo prendere il drone. Ma che cavolo fa? Ma scusa, ma ci sta un... Attacca. Questa era la prima parte di Trettacolaris. E niente, spero che vi siate divertiti. E... E boh, basta. E boh, basta. Addio.